Per te imprenditore, nel labirinto della burocrazia amministrativa, raccogliere la documentazione ufficiale della tua impresa può essere non solo complesso, ma anche oneroso in termini di costi diretti e indiretti. E richiede molto tempo, che potresti dedicare al tuo business. Per superare tutto questo nasce impresa.italia.it, il cassetto digitale dell'imprenditore. Entra con la tua identità digitale Speed o con la Carta nazionale dei servizi senza nessuna registrazione. Verrai riconosciuto automaticamente come titolare o legale rappresentante della tua impresa. Potrai accedere immediatamente alla tua visura o agli ultimi bilanci, consultare i contenuti sempre aggiornati del tuo fascicolo informatico d'impresa e monitorare in mobilità lo stato delle pratiche presentate al registro delle imprese o presso gli sportelli unici delle attività produttive gestiti dalle camere di commercio scaricando le relative ricevute. Con impresa.italia.it puoi consultare le informazioni del settore di appartenenza della tua azienda o scoprire le opportunità di collaborazione con la nuova generazione di imprese, start-up e PMI innovative. Inoltre puoi attivare la ricezione delle notifiche e conoscere immediatamente la disponibilità di un documento che hai richiesto. Meno burocrazia, più idee per la tua impresa. impresa.italia.it, l'impresa sempre con te. È un servizio offerto dalle Camere di Commercio d'Italia, realizzato da Infocamere.